Commercio per il 2023, la conferenza ONU certifica una contrazione del 5% degli scambi globali, Italia macchia di leopardo per l'Istat. L'export cresce al sud e nelle isole cala al centro e al nord-ovest. Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca per sbloccare lo stallo sugli aiuti del Congresso Medio Oriente, oggi l'Assemblea ONU per il cessate il fuoco. Corte Costituzionale eletto all'unanimità il nuovo presidente Augusto Barbera, professore merito di diritto costituzionale all'Università di Bologna. Banca Italia, prestiti alle imprese in calo ad ottobre del 5,5% annuo con crescita dei tassi al 5,46%, aumentano al 4,72% anche i tassi sui mutui per l'acquisto di abitazioni. Veicoli industriali, un RAE, mercato in crescita a novembre più 23,4% rispetto all'anno precedente, quintuplicate rispetto al 2022 le vendite di veicoli elettrici. Buonasera, il commercio globale si conferma in calo. Secondo l'ultimo report dell'Unctad, la conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo, la contrazione degli scambi avviata già dalla seconda metà dello scorso anno, nel 2023 sarà pari al 5% per un valore di 30,7 trilioni di dollari. Pesa in particolare la diminuzione dell'8% del segmento merci a fronte di una crescita di 7 punti dei servizi. Inoltre, secondo l'Unctad, per il 2024 le previsioni restano altamente incerte e generalmente pessimistiche a causa delle persistenti tensioni geopolitiche e di una diffusa fragilità dell'economia. Tensioni che stanno plasmando le catene logistiche globali, aumenta il fenomeno del friend shoring, ovvero della prossimità politica negli scambi con le supply chain che si allungheranno mentre si fa crescente l'introduzione di barriere doganali. Secondo l'Unctad, si sta dunque determinando un calo della diversificazione dei partner commerciali e una concentrazione degli scambi lungo alcune tratte maggiori. Ma veniamo nello specifico ai flussi commerciali del nostro Paese. Secondo l'Istat, nel terzo trimestre l'export è cresciuto su base congiunturale in particolare al sud e nelle isole che segnano un più 7,9%. Più contenuto l'aumento al nord-est, mentre al nord-ovest e al centro le esportazioni risultano in flessione. E continuiamo con le notizie di carattere economico. Questa volta le stime sono diffuse da Banca Italia che ha evidenziato un calo dei prestiti al settore privato che ad ottobre si attesta al meno 3,2% annuo. Nel dettaglio i prestiti alle imprese sono diminuiti di ben 5,5 punti, mentre quelli alle famiglie sono scesi dell'1,1%. Un effetto dell'aumento dei tassi di interesse saliti al 5,46% sui prestiti alle aziende e al 4,72% sui mutui per l'acquisto di abitazioni. Tuttavia, complici le festività natalizie, i consumi appaiono in leggera ripresa con gli italiani che sempre più spesso prediligono gli acquisti online. Le feste di Natale portano a un ritorno degli italiani nei negozi. La spesa per i regali è in crescita fino a 223 euro a testa quest'anno con un aumento del 13% rispetto al 2022. In parte l'inflazione è gonfiare di scontrini, ma anche al netto dei rincari ci sarà una crescita degli acquisti del 6% con una polarizzazione tra chi può permettersi di fare shopping senza troppi pensieri e chi no. A sorpresa aumentano i ragazzi sotto i 35 anni che punteranno sui negozi di quartieri, anche se sarà sempre web a farla parte del leone. Le grandi piattaforme sono ormai indispensabili per il 44% degli italiani. Ha indicato il rischio di un'economia progressivamente sempre più dominata da pochi giganti digitali, mentre aprire un negozio si rivela un'impresa sempre più impossibile. Prima il Covid, poi l'inflazione, entrambi grandi fenomeni che hanno accelerato il passaggio a nuove abitudini di consumo, sempre più spesso concentrate online. Negli ultimi anni lo shopping degli italiani ha cambiato forma, costretto dalla pandemia e dalla successiva impennata dei prezzi, e a farne le spese sono stati migliaia di negozi, a partire da quelli di abbigliamento, obbligati, in non pochi casi, anche a chiudere i battenti. Tra il 2019 e il 2023 il numero di negozi di abbigliamento è diminuito di oltre 9.000 unità, attestandosi al 30 settembre scorso leggermente al di sopra di 78.000 esercizi commerciali. Le vetrine illuminate stanno progressivamente lasciando spazio alla serra cinesca e abbassate praticamente ovunque in Italia, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adice, dove si conta una variazione negativa in termini percentuali più contenuta. In tutte le altre regioni del centro nord, a partire da Lazio, Marche, Toscana, Friuli, Venezia e Giulia, si registrano perdite superiori al 10%. Lazio, Lombardia e Toscana sono invece le regioni in cui la contrazione degli esercizi appare maggiore in termini assoluti. Le tre regioni, infatti, determinano quasi la metà della variazione negativa registrata a livello nazionale. Meno 4.272 attività nel periodo in esame, pari al 46% del totale. Veniamo ora al mercato dei veicoli industriali che continua a crescere pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-Covid. Secondo i dati in Rai a novembre, le immatricolazioni con oltre 2.600 unità registrate hanno segnato una crescita del 23,4% annuo. Ottima performance dei veicoli elettrici con le vendite quintuplicate rispetto al 2022, mentre registra una riduzione del 64% la quota dei mezzi a gas naturale. Anche il mercato auto in Italia segue lo stesso trend. Un Rai stima una sostanziale stagnazione fino al 2027, quando le immatricolazioni dovrebbero assestarsi attorno a 1,8 milioni, livelli ancora inferiori agli oltre 1,9 milioni registrati nel 2019. Rimanendo nel settore auto, si registra un aumento nelle assicurazioni. Il prezzo medio delle polizze è salito a 388 euro, in aumento del 7,9% annuo in termini nominali. I premi si confermano più elevati al centro e al sud, dove si attestano rispettivamente a 424 e 413 euro. Per le associazioni dei consumatori, la stangata per gli automobilisti ammonterà nel complesso a oltre 900 milioni. Dalla gomma al mare, Finlines, la compagnia finlandese del gruppo Grimaldi, ha preso oggi in consegna la nave Fincanopus, seconda unità Ropax ibrida di classe Superstar. La nuova unità, con una capacità di 5.200 metri lineari e 1.100 passeggeri, entrerà in servizio da febbraio sulla linea tra la Finlandia e la Svezia, andando ad incrementare il traffico merci nel Mar Baltico. Con la Fincanopus, ha dichiarato il presidente e CEO di Finlines, Tom Pippinsgold, il Green New Building, da 500 milioni di euro finanziato dalla nostra compagnia e avviato nel 2018, è ora completato. Veniamo alla politica comunitaria. È arrivato oggi il via libera finale del Parlamento UE, alla legge sulle materie prime critiche. Obiettivo del testo rendere l'Unione più competitiva e indipendente attraverso un sistema di incentivi e un contesto imprenditoriale più stabile e sicuro per i progetti di estrazione e riciclaggio dei minerali rari con procedure di autorizzazione semplificate per le PMI del settore. Ultimo giorno oggi della COP28 di Dubai. Nelle ultime ore sono proseguiti senza sosta i negoziati alla ricerca di un compromesso sull'accordo finale sotto processo d'esclusione dalla bozza diffusa ieri del riferimento sull'uscita dai combustibili fossili. Una decisione che non ha visto tardare la delusione e le proteste di Europa, Stati Uniti e ONU che chiedono maggiore impegno per limitare il riscaldamento globale. Intanto la guerra in Medio Oriente rischia di allargarsi. I ribelli uti dello Yemen hanno rivendicato l'attacco alla petroliera norvegese colpita nel Mar Rosso che stava trasportando carburante per Israele in rotta verso l'Italia. E proseguono gli scontri nella striscia di Gaza mentre Israele prepara un piano dopoguerra. Secondo fonti egiziane sarebbero riprese le trattative per una tregua tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi ed è proprio il raggiungimento di un cessato il fuoco l'obiettivo dell'Assemblea straordinaria generale dell'ONU indetta oggi. A Gaza la situazione è ormai al collasso, alle atrocità del conflitto. Si aggiungerebbe infatti il rischio di malattie infettive in forte aumento e la carenza di cibo. Al 65esimo giorno di guerra l'ONU e le sue organizzazioni sono tornate ad attaccare Israele per la situazione umanitaria nella striscia ormai prossima alla catastrofe e dove metà della popolazione, secondo il vice direttore del programma alimentare mondiale, Carla Scau, muore di fame. Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario. La situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi, ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, criticando anche lo stallo del Consiglio di Sicurezza dopo il veto posto dagli americani alla risoluzione che chiedeva un cessato il fuoco immediato. Una tregua vitale anche secondo l'opinione del capo dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi Philippe Lazzarini, che ha parlato di inferno sulla terra, per descrivere lo scenario di Gaza. Proprio sulla situazione nella striscia si sono confrontati, in un'attesa telefonata di 50 minuti, Netanyahu e Vladimir Putin, la prima dallo scorso 10 ottobre. Per Netanyahu siamo all'inizio della fine di Hamas, ai terroristi, è stato l'appello lanciato dal premier israeliano, Dico che è finita, non morite per Sinwar, arrendetevi adesso. Negli ultimi giorni, ha spiegato, decine di loro si sono arresi di fronte alle nostre forze, gettando le armi e consegnandosi ai nostri eroici combattenti. I membri dell'ala militare di Hamas, gli ha risposto Izat Arisek, un dirigente della fazione che vive all'estero, non conoscono la parola resa, combattono fino alla morte o alla vittoria. Sui social intanto sono state diffuse nuove immagini di palestinesi arrestati dai soldati o che si sono arresi. Ci spostiamo negli Stati Uniti, giornata decisiva per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che stasera incontrerà la Casa Bianca, l'omologo americano Joe Biden, per discutere dei nuovi aiuti destinati a Kiev. Sullo sfondo lo stallo sugli aiuti militari da parte degli USA causato da divergenze al congresso con i repubblicani che hanno fatto saltare l'avanzamento di una legge straordinaria che avrebbe stanziato circa 111 milioni di dollari. Ma le incomprensioni per il governo Biden non si limitano alle mura di Capitol Hill. È ormai scontro aperto tra il presidente in carica e Donald Trump. Sei una minaccia per la democrazia, è l'accusa che si sono lanciati reciprocamente Joe Biden e Donald Trump in questo fine settimana, mentre alcuni sondaggi segnalano il sorpasso del tycoon sul presidente e alcuni media fanno circolare i primi totonomi di una sua seconda presidenza con personaggi che a qualcuno fanno venire i brividi. Con il rischio di essere azzoppato dagli imbarazzanti processi al figlio Hunter e da un'indagine di impeachment che potrebbe essere votata domani alla Camera, l'inquilino della Casa Bianca cerca di trasformare le elezioni in un referendum non più sui propri risultati, offuscati dall'inflazione e da due guerre in corso, ma su Trump, i suoi problemi giudiziari, la minaccia che rappresenta per le istituzioni. Il commander in chief ha ricordato anche la minaccia del tycoon di usare l'esercito americano nelle strade d'America per dare la caccia ai suoi oppositori politici e la promessa, in tv, che sarà un dittatore solo nel primo giorno, grazie a Dio. Solo per un giorno ha ironizzato Biden facendosi il segno della croce. Trump gli ha risposto dal galà del Club dei Giovani Repubblicani di New York non sono una minaccia, salverò la democrazia, la minaccia. E il corrotto Joe Biden ha accusato, sostenendo che questa è la loro nuova linea, la bufala dem della minaccia alla democrazia dopo quella del Russiagate. Nel pomeriggio le comunicazioni della Premier Meloni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo, molti i temi trattati a partire dalla riforma del patto di stabilità. La partita è ancora aperta, affermato in merito alla Premier, la misura del superbonus pesa come un macigno, ma l'Italia è una nazione virtuosa che si presenta con le carte in regola. La manovra intanto entra nella fase conclusiva con le opposizioni che oggi hanno abbandonato i lavori in Commissione Bilancio. Al Senato è corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Con la seduta in Commissione Bilancio al Senato entra nel vivo l'iter di conversione in Parlamento della manovra. Il percorso è blindato con la maggioranza vincolata a non presentare emendamenti, ma pesa l'incognita dei tempi con il rischio che l'approvazione finale possa slittare a dopo Natale. Si parte da Palazzo Madama, dove la Commissione Bilancio è convocata fino a venerdì con l'obiettivo di chiudere in settimana il lavoro sul provvedimento che è atteso in aula a partire da lunedì 18. La partenza è sempre l'illustrazione degli emendamenti che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Orientativamente tra mercoledì e venerdì dovrebbero svolgersi le votazioni, ma non escluso che si arrivi anche al fine settimana. I tempi sono infatti legati anche alla presentazione degli emendamenti del Governo e dei relatori. Le prime tre modifiche dell'esecutivo sono già state depositate e i partiti potranno presentare i subemendamenti. Un altro termine verrà fissato per subemandare anche l'ultimo atteso emendamento del Governo sulle infrastrutture e il ponte e le eventuali modifiche dei relatori. Chiuso il lavoro in Commissione, il DDL passerà quindi in aula, dove la discussione, inizialmente prevista dal 12 al 15 dicembre, è stata spostata dall'ultima riunione dei capogruppi alla settimana del 18 dicembre. Più incerto litera alla Camera, dove, in base all'attuale calendario, la legge di bilancio dovrebbe approdare in aula dal 20 dicembre alle 10.30. Augusto Barbera è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale. Eletto all'unanimità, il Professore Merito di Diritto Costituzionale all'Università di Bologna, era dal mese scorso il Presidente facente funzioni della Corte e ora si appresta a ricoprire l'incarico per circa un anno, fino a dicembre 2024. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.